Primo test match per il Novara Football Club di Mister Gattuso nella giornata di giovedì 25 luglio. Al Piola, infatti, si è svolto un allenamento congiunto con la La Selezione Torinese, The Soccer and Academy Sport, completata da qualche ragazzo in prova con gli azzurri. Il Novara FC ha vinto agilmente per 5-0. Gli azzurri godranno di due giorni di riposo, prima della partenza programmata per domenica News 24, la tua nuova TV locale.